proviamo a fare un salto indietro prima a fare un salto indietro perché sia a un certo punto cerchiamo di capire come sono successe delle cose i neri erano gli schiavi i bianchi erano i padroni i neri c'erano niente i bianchi c'erano più o meno tutto se c'erano niente come hanno fatto a fare tutta questa musica questa musica nasce da molto prima in realtà le work songs e le canzoni di lavoro erano quelle che accompagnavano il lavoro nei campi il lavoro nei campi era scandito il ritmo del lavoro dei campi era scandito da canta canzoni di lavoro appunto da cui no work songs le field field haulers tutte le varie cose insomma la musica che che le canzoni che cantavano insomma è stato un processo molto lungo sono centinaia di anni non è che si sono svegliati una mattina hanno inventato il blues questa musica come dice come dicevo all'inizio proprio all'inizio inizio della della del ragionamento è una musica che nasce dalla sofferenza di un popolo queste canzoni nel tempo sono diventate per esempio fra le altre cose un po una forma di socializzazione quindi no stare tutti insieme gli è stato permesso di avere degli strumenti e sono diventate anche una forma di comunicazione fra di loro soprattutto la maggior parte dei testi erano al di fuori di quell'ambito incomprensibili o comunque sembravano molto facilmente comprensibili quando in realtà stavano dicendo altro a volte erano canzoni per prendere in giro il padrone bianco a volte erano canzoni per mandarsi dei messaggi messaggi in codice l'uomo giovane che voleva la donna avvenente avvicinarla allora magari cantava una strofa che dica chissà che cosa e la sera si ritrovavano nel fienile da qualche parte per gioire uno dell'altro ma insomma è una musica che è stata nella sua semplicità molto travisata all'inizio anzi completamente incompresa perché veniva usata proprio il linguaggio veniva proprio usato fra di loro per non farsi comprendere c'è stato però ci devono essere stati dei momenti in cui le due culture sono venute a contatto perché perché hanno cominciato a usufruire di strumenti non c'è solo la chitarra c'è l'armonica a bocca c'è stato il pianoforte in realtà c'è tutto il movimento appunto dei pianisti Scott Joplin è un pianista a rectime che viene dalla fine dell'ottocento a cavallo del novecento adesso non ricordo le date ma insomma il rectime Fats Waller James P. Johnson grandissimi musicisti c'è stato il film se vi ricordate la leggenda del pianista sull'oceano che tratta in maniera molto romanzata la figura di uno di questi di questi pianisti quindi i neri non suonavano soltanto la chitarra blues ma Scott Joplin era un pianista nero ma comunque colto ci sono tutta una serie di aspetti molto interessanti legati anche alle varie culture dei neri ho scoperto per esempio grazie a quel bellissimo libro che è il popolo del blues che tutta una generazione di musicisti del nord degli stati uniti non aveva minimamente neri non aveva minimamente idea di che cacchio fosse il blues suonavano tutt'altro quindi è singolare questa cosa no perché così immagina i neri in america nel inizio del novecento tutti che suonavano blues manco per niente non era così comunque senza girarci poi troppo intorno perché sono cose interessanti ma rischiano di andare un po fuori tema anche se poi il tema è in realtà è lo stesso ci deve essere stato un momento in cui e qui ci sono forse delle figure anche importanti chi lo sa i neri e i bianchi non erano completamente separati c'erano i neri da cortile e come venivano in maniera sprezzante chiamata dagli altri della della stessa razza perché erano quelli che si erano ingraziati un po i bianchi fungevano un po da trade union da anello di collegamento con con appunto tra i bianchi e invece proprio gli schiavi che non è che tutti potessero andare a parlare con i padroni e quello che fosse quindi alcuni di loro avevano accesso alle case avevano accesso magari ai salotti a volte accesso a qualcos'altro insomma i greoli i medici sono nati in qualche modo bastava un nero e una bianca figlia del fattore del proprietario terriero che è cala che è nata una generazione di colore diverso non ci vuole granché per fortuna però quello che ci interessa invece è come sono arrivati agli strumenti perché questi sono arrivati dall'africa privati completamente di tutto non avevano più nulla ci sono comunque delle cose interessanti perché la deportazione dall'africa è continuata per secoli per esempio il banjo è uno strumento africano banjo strumento uno degli strumenti principi della musica dei razzisti bianchi che suonavano nella musica soltanto dei bianchi in realtà è uno strumento africano pelle di animale tesa con le corde di budello di qualche cosa quindi strumento assolutamente di derivazione africa e invece uno strumento proprio dei neri come strumento dei neri che però è stato diventato strumento principe dei bianchi mentre anche se poi ci sono testimonianze di assolutamente soprattutto all'inizio di neri che suonavano quello strumento ma di registrato purtroppo non c'è quasi niente se non niente per esempio una cosa che mi ha sempre fatto ridere è che l'armonica bocca che è forse lo strumento più evocativo del blues è austriaca austriaca di itler è nato in austria quindi nel paese che ha dato vita ai natali a l'uomo più razzista della storia ci sta la nascita anche dello strumento armonica bocca che poi è esportata in qualche modo in in america diventa invece uno strumento probabilmente anche lì per no la piccolezza dello strumento la facilità di riporre un taschino nascondere nei pantaloni entrare una scarpa che ne so quindi probabilmente no la semplicità di avere quegli strumenti i neri però hanno accesso anche alle chitarre perché poi la chitarra appunto diventa lo strumento che è probabilmente il collegamento con la musica moderna che ci darà modo di fare anche diverse riflessioni io sono chitarrista sul mio canale si parla di chitarra e chiaramente alcune delle cose sono legate a quello anche se poi penso che i temi più generici possono essere interessanti così anche semplicemente per discorrerne ma insomma l'armonica bocca e la chitarra sono quei due strumenti diciamo ci sono tracce di violino banjo di altri strumenti suonati però poi chi la fa da padrone veramente è la chitarra da dove viene questa chitarra questa chitarra probabilmente viene dai salotti delle case dei ricchi bianchi i bianchi suonavano molto spesso anche le giovani bianche suonavano le chitarre acustiche bisogna ricordare che le chitarre acustiche nell'ottocento erano chitarre probabilmente classiche di forma molto piccola c'erano le cosiddette parlor quelle che noi oggi conosciamo come parlor erano chitarre piccole un po perché non erano state inventate le chitarre grandi quindi c'erano solo quelle piccole un po perché probabilmente erano più facili da maneggiare ma comunque quelle grandi non c'è stavano quindi maneggiavano per forza quelle quelle chitarre erano suonate e qui bisognerebbe cercherò di essere di non fare il dottor divago come al solito ma di mantenermi in un campo un po più ristretto quelle chitarre erano già strumenti piuttosto popolari bisogna ricordare che la chitarra in europa era uno strumento che aveva già una sua letteratura a quel punto quello strumento portato però in america l'america non beneficiava probabilmente di quella stessa cultura in quel momento storico soprattutto al sud non credo che fosse arrivata così quelle chitarre venivano già suonate e c'erano dei brani che erano molto conosciuti allora proviamo a fare dei piccoli collegamenti per esempio nel blues questa è un'accordatura di re aperto si usavano l'accordatura di re aperto detta vestapol perché era abbinata probabilmente a un brano che è molto famoso che era la battaglia di sebastopoli sebastopol vestapol che era suonato in una certa accordatura che era probabilmente questa e c'era l'altra accordatura che viene chiamata la spanish tuning che è l'accordatura di sol aperto quella che suona kit richards dei rolling stones con cui ha scritto star me up e un sacco di altri pezzi che viene chiamata spanish tuning perché in quella accordatura di sol aperto venne scritta spanish fandango spanish fandango è una composizione che a quanto ho letto arrivò a essere stampata su carta e a essere distribuita in un milione di copie cioè considerando che non c'era la registrazione la carta era l'unico modo di diffondere musica se la sapevi legge ovviamente ma c'erano degli spartiti di brani che erano molto molto popolari molto conosciuti allora viene un po' da fare uno più uno e dire ma allora se si suonava la parlor guitar nei salotti dell'ottocento di metà ottocento è possibile che i neri che erano entrati in casa avendo dei contatti con i bianchi non soltanto musicali come abbiamo visto avessero avuto accesso a quegli strumenti avessero sentito suonare avessero avuto modo di avere una chitarra magari accordata in solo aperto e quando era accordata in solo aperto magari hanno cominciato a suonarci col coltellino perché suonavano slide non certo con lo slide all'inizio suonavano con i coltelli perché ognuno di loro probabilmente aveva un coltello per sopravvivere ma comunque anche per fare magari le attività normali per recidere le piante che coltivavano che raccoglievano suonavano con questo coltello che poi è diventato il bottleneck il colo di bottiglia la slide insomma tutto quello che è successo è possibile forse trovare un collegamento di quel tipo quindi questa chitarra suonata nei salotti di quelle case dove loro erano schiavi probabilmente i contatti c'erano c'è chi dice che addirittura suonassero si trovassero a suonare insieme bianchi e neri a un certo punto e non lo sappiamo non lo sapremo mai però sappiamo che la loro musica da canzoni da canti di lavoro che poi si erano trasformati nel tempo negli spirito nei gospel gospel god spell la parola del signore erano già stati tutti ampiamente convertiti quindi comunque la loro musica era diventata quella loro si ritrovavano in chiesa alla fine del lavoro per cantare le canzoni gioiosamente che bello siamo schiavi e ci abbiamo una regione che non è la nostra non ci abbiamo più niente di quello che è sono morti quasi tutti buttati nell'oceano mentre veniamo qua però comunque hanno trovato un motivo poi dici perché avevano il blues eh perché avevano il blues grazie al cavolo è perché con la storia dietro solo il blues potevano avere però questo blues che tanta sofferenza ha provocato a loro tanta gioia ha provocato a noi perché come al solito delle sofferenze di qualcuno c'è qualcuno che beneficia e magari ci apro un altro capitolo